Il Comune non fa assistenzialismo, cercheremo di recuperare una parte del progetto, ma gli imprenditori che hanno puntato sull'iniziativa di Edicolab non hanno saputo incentivare e sostenere la proposta mirata sociale attraverso l'impegno dei portatori di handicap. Così l'assessore alle politiche sociali Marco Cillo, che solidarizza con i 15 diversamente abili che per due anni hanno trovato lavoro e aggregazione grazie al progetto dell'Associazione Libero per Tutti, ma striglia i promotori dell'iniziativa. A me dispiace molto questa cosa che ho seguito fin dall'inizio, il problema è che quando c'è una piccola impresa che dovrebbe in qualche modo garantire anche un ritorno economico per questi ragazzi, ci sono leggi del mercato. Noi abbiamo fatto con loro una serie di incontri con il CSV, con le cooperative, abbiamo cercato anche in qualche modo di aiutarli da un punto di vista non soltanto burocratico, ma anche cercando di ristrutturare questa attività. Non ci siamo riusciti, molte delle promesse anche da parte loro, non da parte dei ragazzi naturalmente, ma chi è stato il progettista di questa realtà, ci dispiace molto che chiuda, però non è che possiamo continuare con i contributi comunali. Ogni associazione deve vivere delle proprie attività, laddove ci sono delle attività comuni o comunque eccetera, il comune è anche pronto a sostenere. Però io da quando sono diventato assessore, i contributi alle associazioni a fondo perduto non ne abbiamo mai dati e questa è stata una nuova politica che io ho cercato di fare e soprattutto per quanto possa essere meritorio. So che hanno ricevuto anche dei contributi da altre attività di solidarietà, sicuramente che chiuda, ci dispiace, cercheremo di recuperare una parte del progetto per dare comunque una speranza a questi ragazzi che ci hanno messo l'animo.